Oggi abbiamo bisogno di sognare di cose belle ed è per questo anche che ho fatto una collezione con questi acchiappasoni Dreamcatcher che ti prendono i sogni belli e ti buttano fuori quelli cattivi e brutti e dunque ho voluto creare una collezione di pigiami sempre cotone cashmere come le nostre t-shirt che sono piaciute tanto per la qualità del tessuto e del materiale e dunque abbiamo creato con lo stesso tessuto una collezione di pigiami che devo dire sta avendo un bel successo è un pantalone anche relativamente diciamo normale abbiamo fatto anche le camicie da notte del nonno quelle un po lunghe mi sono ispirato delle piume di tutto questo dunque questa è un po la nostra filosofia da adesso ma anche con le t-shirt siamo andati avanti abbiamo fatto delle t-shirt reversibili abbiamo fatto la maglieria sempre in cashmere cotone nuove stampe dunque da un anno e mezzo fa dove la collezione aveva sei pezzi adesso ne abbiamo 49 e andiamo avanti perché stiamo studiando anche pantaloni denim giacche la cosa piace devo dire sono proprio contento ho creduto nel far lavorare gli italiani faccio nel caso un cento per cento fatti in italia dal filato alla confezione alla fabbrica anche il packaging è fatto in italia questo io ci credo tantissimo e sono proprio felice per questo perché abbiamo degli artigiani bravissimi abbiamo delle persone straordinarie e oggi dobbiamo giustamente sopportarli e aiutarli questo è un brevetto giapponese abbiamo fatto un po di ricerca siamo riusciti a trovare questi panel giapponesi fortissimi che ce l'ha andato in esclusiva per cinque anni moderno nuovo e sicuramente è un prodotto che abbiamo solo noi quindi direi che abbiamo tutte le caratteristiche poi in questo momento c'è un ritorno all'eleganza alla pulizia e quindi noi tutta la collezione non solo questo è un po ispirato a questo gusto questa idea abbiamo inserito due capi in uno quindi uno si compra il giubbotto e se vuole se lo può togliere rimane il piumino abbiamo già i riscontri positivi si accende a tre temperature medio e leggermente caldo se uno molto freddo schiaccia e ha il massimo del comfort